GF VIP 7, Nikita Pelezzoni e Nicolin Curvaia l'eliminazione di Antonella Fiordelisi, non stava bene ma. Dopo gli appelli della famiglia Fiordelisi, ieri sera Antonella è stata eliminata a un passo dalla semifinale che andrà in onda il prossimo lunedì. Un risultato arrivato a sorpresa, in quanto, nonostante le tante dichiarazioni dei suoi genitori. Erano tante le persone, Vipponi compresi, a vederla sul podio. Dopo la diretta, che ha visto già Elede Dona raggiungere Oriana Marzoli e Nicolin Curvaia alla finalissima. Quest'ultima si è confidata con Nikita Pelezzoni. La sorella di Clizia ha ammesso di sentirsi più leggera da quando non c'è più l'influencer nella casa del grande fratello Vipp. La modella triestina, nel corso della lunga chiacchierata con Nicolin Curvaia, ha ammesso che anche lei mesi fa provava le sue stesse sensazioni. Non lo s'neam, ca si bestii mari sunt slabii Balotezi vârtos, le-am spus la tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint. Ma disting fara bling, ca nu te am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultură hip-hop ma gasesti construind Scui beton dupa care il intind, si el devine tare in timp. Așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul, si acum rap-ul e moda ONU. Așa-i, si zici ca stom ford, la cum ma comport, in treaba asta nu-i loc de confort, rigor si omor tot. Sunt un crucișător, lans în rachete aerosol, inca de cand el era broke si se uza de aerosol. De cand avea mall, de cand nu stiai ce urmi scol, de cand ascultam Gangs... ... ...